Ammontano oltre 120 milioni di euro i danni per le imprese della zona rossa e arancione attorno al ponte Morandi a Genova e quanto emerge dagli oltre 400 modelli di richiesta presentati alla Camera di Commercio genovese. I danni segnalati dalle imprese genovesi sono per oltre 43 milioni diretti e quindi legati ad istruzioni di immobili e apparecchiature. Guardando la ripartizione fra i settori, il più colpito risulta l'industria con quasi 79 milioni di euro, seguito dal commercio con oltre 22 milioni e dai servizi alle imprese con oltre 11 milioni. Il numero più alto di modelli presentati, 181, spetta però al commercio che stacca decisamente i servizi alle imprese, 42 modelli, i servizi alle persone, 40, l'industria e il turismo con 39 modelli. Lo scotto più alto fra le diverse voci di danni indiretti lo pagano l'industria con oltre 14 milioni di euro di costi aggiuntivi di personale e il commercio con oltre 11 milioni e 600 mila euro di mancato guadagno, sempre senza interruzione di attività. Si tratta dei tanti negozi e ristoranti che hanno visto scomparire il passaggio della clientela dopo il crollo del ponte e le modifiche alla viabilità.